Il sospetto è concreto e serpeggia negli ambienti del carroccio Come rivela la Dinkronos Fonti della Lega sembrano sempre più convinte che alla base dei mal di pancia grillini ci sia la volontà di cambiare gli assetti in Parlamento Nessun contatto con Forza Italia, a differenza dei 5 Stelle che spesso sembrano andare d'accordo col P.I.D. Assicurano alcuni esponenti del partito guidato da Salvini Smentita anche la presunta telefonata che, secondo il messaggero, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti avrebbe fatto a un altissimo esponente di Forza Italia, e in cui avrebbe detto siamo a un passo dalla crisi, qui crolla tutto Una palla colossale, la definisce lo stesso Giorgetti Ma figurati, sarà tre mesi che non vi parlo Ma figurati, sarà tre mesi che non vi parlo